Ciao a tutti ragazzi, oggi vi volevo far vedere la statuetta dello janitor dell'Hilton Nightmares Praticamente si presenta così, però ora c'è un po' di luce quindi è difficile vederlo Possiamo anche girare e si può trovare la lady, vabbè non si può trovare, si può decidere cosa comprare Gli chef che c'è mio fratello, gli ospiti cioè i guest e poi in teoria anche l'ognomo in teoria, l'onomino Come possiamo vedere Little Nightmares di Gekko, infatti sotto la statuetta c'è scritto, dopo ve lo farò vedere Ed ecco qui gli altri che si possono trovare, l'ognomo con la salsiccia, Six e il janitor che c'ho pure io Oppure lo janitor, vabbè comunque lui E il sotto della scatoletta è questo Gekko Corp, da toys, punto com, vabbè tutte queste cose qui Ora l'apriamo e ve la faccio vedere meglio dai Aspettate da notare che sopra c'è un occhio, come quello di Little Vabbè, vabbè io dico di Little, intendo Little Nightmares Ecco qui ragazzi l'abbiamo aperta, adesso la caccerò fuori dalla scatola, la tirerò fuori dalla scatola Ecco qui ragazzi, come possiamo vedere è stato incartato dentro questa cosa di plastica Che non ne ho idea, che cos'è, ma vabbè dettagli Ed ecco qui, ma purtroppo la telecamera mette a fuoco tutto giurro Vabbè ora la prendo e ve lo vediamo meglio Eccola qui ragazzi, già possiamo intravedere, ora la prendo proprio Ed eccola qui ragazzi, praticamente è il mostro con le braccia lunghe Dentro la scatola come possiamo vedere c'è Six I piedi sono fatti benissimo Il suo sorrisone non si vede, vabbè Però non può mancare il sorrisone Anche se è sfocato ve lo devo far vedere Aspetta, magari così si vede meglio, eccolo qua Il sorrisone suo non può mancare mai Ed eccolo qui da dietro Molto semplice Sotto c'è scritto Gekko, ma ecco io ora ce l'ho accontrato Stavo dicendo se non si è sentito ce l'ho accontrato, avevo detto Come potete vedere Gekko E Little Nightmares Però a volte si vede, a tratti si vede, a tratti no Non si vede bene con questa telecamera, ma vabbè Comunque c'è scritto il nome del gioco Eccolo qua, ora si vede Ora l'appoggio a terra Questo è il suo cappello La cassa da cui si intravede Six Le sue braccia lunghissime Le mani grigie, come la sua faccia Che io dicevo che era una benda, ma era alla fine la pelle Ma tirata dal cranio Però si poteva vedere anche che c'è delle macchie di sangue Come qui sulla spalla, che magari da lontano si vedono meglio Sulla spalla Qua Precisamente Qua Qua Forse si era visto Forse no Six, tutto ok qui dentro? Ok, forse ok Ma vabbè Comunque questa era la statuetta Col pavimento in legno E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao Da notare gli scarti Ma vabbè Ciao Ciao